Ecosistema urbano, Cremona migliora nella classifica stilata da Lega Ambiente e guadagna sei posizioni, passando dal trentesimo posto dell'anno scorso al ventiquattresimo. Una scalata dovuta ad un miglioramento della qualità dell'area, sebbene il calo delle polveri sottili nemiche numero uno non sia stato sufficiente a evitare che nella graduatoria specifica si registrasse una caduta dalla settantacinquesima all'ottantaduesima posizione, segno che in altre parti d'Italia si sta decisamente meglio. Capitolo rifiuti, la produzione complessiva si è abbassata passando da 547 a 527 kg anui per abitanti, un decisivo contributo arrivato dalla differenziata che è passata dal 45,5% al 53,7%, permettendo a Cremona di scalare sei posizioni e arrivare al trentanovesimo gradino. Ottimo piazzamento sulle energie rinnovabili, dodicesimo posto raggiunto nella classifica nazionale. La città del Torrazzo resta infine in vetta per quanto riguarda la superficie pedonale e le piste ciclabili, per le quali si perde una posizione pur rimanendo sul podio. Questi dati positivi, ha commentato a riguardo l'assessore al territorio e alla salute Alessia Manfredini, ci invitano a proseguire. Grazie all'ampliamento a tutta la città della raccolta differenziata, all'incremento delle zone pedonali e al potenziamento delle ciclabili, nella prossima edizione, dice l'assessore, faremo un ulteriore balzo in avanti.